Ognuno si sente lì in dovere di andare a aprire gli alloggi altrui e quindi la storia non va bene perché c'è gente che ci ha abitato per 60 anni e chiaramente quando toccano magari le loro cose. Ci racconti la sua storia, questa casa diceva prima era stata affidata ai suoi genitori che adesso non ci sono più. Non ci sono più perché sono defunti e sono solo io come figlio che sono rimasto qua a Scalea e quindi ho la casa di me e sono subentrato io. Teme che qualcuno possa impossessarsi anche della sua abitazione? Sì perché è facile se io esco fuori che mi sposto magari pure per motivi di lavoro oppure per altri motivi e mi entrano subito in casa. Come è successo pure altre persone che per motivi di lavoro, ripeto, sono andati via. Un mese fa di mattina, verso le 10 di mattina, sono entrati in un alloggio che era già assegnato a una famiglia che abitava fuori, fuori Scalea. e sono entrato dentro, hanno portato via i mobili, hanno portato via tutto e loro sono diventati loro i padroni. Quest'alloggio che non hanno nessun titolo e nessun diritto. Qui la parte dei vigili hanno fatto in verbale. Ovviamente lei ha fatto queste segnalazioni ai carabinieri, al comune. Sì, sono andato pure dai carabinieri, gli ho parlato pure della mia questione, il mio problema, che io quando vado via so che... Che cosa le hanno risposto? Hanno risposto, purtroppo loro non possono farci nulla perché non possono mica andare a contro. E' un altro caso di segnalazioni alla nostra emittente. Come avete ascoltato, il signore ha voluto denunciare quanto accade a Scalea per le case popolari. La questione risulta essere alquanto complicata, anche noi siamo andati a chiedere spiegazioni. Questi alloggi riferiscono dal comune, sono assegnati dall'ATERP di Cosenza, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale popolare, in base a criteri che valutano le condizioni di disagio economico e sociale del richiedente. Le pratiche poi vengono seguite dal comune e tutti i controlli invece aspettano l'ufficio di polizia municipale. Siamo al corrente di queste situazioni, ha detto il comandante dei vigili Adriano Serra. In questi giorni faremo un sopralluogo e analizzeremo tutti i documenti per accertare eventuali irregolarità. Abbiamo già riscontrato l'illegittimità nell'appropriazione di un'altra casa e dovremo eseguire un'ordinanza di sgombero. Abbiamo anche sentito il comandante della compagnia dei carabinieri di Scalea, il tenente Vincenzo Falce, che ha detto che si sta interessando personalmente della vicenda.